La famiglia Moneti è pronta a lasciare l'abitazione di Via Persoria 53. Nessun lieto fine per una vicenda che ormai persiste da diverso tempo. Alessandro e la sua famiglia nel weekend o al massimo nei primi giorni di settimana prossima diranno definitivamente addio a quella che per diversi anni è stata la loro casa. I giornamenti non ne abbiamo di particolari, nel senso che stamattina dovrebbe venire il custode giudiziario alle 11 per comunque notificare la giornata di oggi. Non credo che venga con le forze dell'ordine, non lo sappiamo, però non penso ci sia oggi la consegna delle chiavi. Penso ci abbiano dato, abbiamo parlato, abbiamo avuto una riunione con il prefetto del questore, ci hanno dato fino al weekend, i primi della prossima settimana, perciò noi ci stiamo muovendo già questa mattina con i vari smontaggi dei mobili eccetera e ci stiamo adoperando per cercare un box per appoggiare tutto il mobilio. Poi per la soluzione per noi stiamo valutando di trovare un posto per non dividere la famiglia in due, se si riesce altrimenti staremo in appoggio a coppie insomma. La famiglia Monetti si trasferirà momentaneamente presso l'abitazione di un parente in attesa del passaggio definitivo nella loro nuova casa in zona Loreto. Termina così una lunga storia che vede Alessandro Monetti, un ragazzo disabile ormai da nove anni a causa di un tragico incidente stradale costretto a cambiare abitazione per almeno due volte. Una cosa lunga che non credo fosse utile in questo modo qua però evidentemente c'è un modus operandi che va fatto in questo modo qui. Da una parte spero di sì, dall'altra penso di sì perché tanto comunque poi ci hanno dato insomma dobbiamo andare via quindi prima o poi sarebbe comunque successo però magari si sperava di riuscire a non dover fare uno spostamento in più e ci avevano chiesto se eravamo disposti abbiamo detto di sì, comunque adesso non troviamo una soluzione però se dobbiamo adattarci ci adatteremo quindi insomma è almeno peggio per il momento.